La separazione tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto è ormai ufficiale. I due non sono più insieme, lo abbiamo sentito più volte durante la trasmissione pomeridiana di Barbara D'Urso Pomeriggio 5 e lo stesso Monte lo ha annunciato ufficialmente sul suo profilo Instagram, come sapete io e Paola non stiamo più insieme, ma aggiunge che le motivazioni rimarranno private. Nel frattempo Paola Di Benedetto posta sui suoi profili social bellissime foto, ma ciò che attira l'attenzione sono le sue parole, quello che conta è essere liberi. Dagli schemi, dalle costrizioni, dalle aspettative. Vivere ogni giorno con la massima intensità possibile. Ma soprattutto mi riprometto di seguire sempre il mio cuore. Intanto, in diretta dalla casa del grande fratello, l'ex fidanzato di Paola, Matteo Gentili è stato informato della separazione da Alessia Prete, con la quale sembra essere nata una vera storia d'amore, Alessia è stata messa, dal grande fratello, nella condizione di rivelare o meno a Matteo la separazione tra Francesco Monte e Paola. Ag. Camilla Catalano Francesco Monte e Paola Di Benedetto non stanno più insieme e molti sono coloro che si aspettavano questa fine per la storia nata tra i due ex naufraghi, conosciutisi all'isola dei famosi. Tanti infatti sospettano che la verità è che Francesco sia ancora legato all'ex Cecilia Rodríguez. Molti commenti sui social che lo testimoniano, come quello di questa follow e di Francesco, che sul suo profilo Instagram scrive, Tutta sta storiella Paoletta ti aspetto per viverti fuori eccetera per cosa poi? Accorgerti che non la vuoi mamma invece di rifarti una vita pensi ancora a Cecilia che se la spassa con Ignazio? Boh per quanto mi piaci come persona io credo che a sto punto potevi evitare di flirtare con Paola all'isola e... Hai illuso lei e ti sei illuso tu. Aggiornamento di Anna Montesano Barbara D'Urso è apparsa titubante ma alla fine sembra essersi decisa, questa sera, nel corso della nuova puntata del Grande Fratello 15. Annuncerà a Matteo Gentili che la sua ex fidanzata Paola Di Benedetto ha chiuso la storia con Francesco Monte. La conferma è arrivata attraverso il settimanale Chima anche a pomeriggio 5, quando oggi la conduttrice ha mostrato un video esclusivo nel quale Paola ha confermato la rottura, dichiarando che la colpa sia proprio di Francesco Monte. Ma cosa potrà comportare questo annuncio nella casa? Matteo Gentili potrebbe mettere in discussione il rapporto instauratosi con Alessia Prete? Di certo sarà una notizia che darà da pensare a Matteo ma che potrebbe poi andare nel dimenticatoio nella casa del GF dopo pochi giorni. Aggiornamento di Anna Montesano Arrivano novità sulla relazione tra Paola Di Benedetto e Francesco Monte che nata poco tempo fa all'Isola dei Famosi sembra essere già terminata. Probabile che Barbara D'Urso decida di raccontare tutto a Matteo Gentili che proprio dentro la casa aveva rientrato per un chiarimento la sua ex fidanzata pronto a mettere una pietra sul passato. Il ragazzo si era lasciato andare e proprio pochi giorni fa è arrivato il tanto atteso bacio con Alessia Prete. Questo ha fatto impennare i commenti sui social network con il pubblico che spera di vederli insieme anche fuori dalla casa. La notizia della fine della storia tra Paola Di Benedetto e Francesco Monte cambierà qualcosa? Matteo Gentili potrà mai pensare di tornare con la sua ex fidanzata? Difficile capirlo, ma di certo il legame che ha stretto con Alessia sembra davvero forte e capiremo stasera quelli che sono i suoi pensieri se Barbara D'Urso, come sembra, racconterò tutto all'ex calciatore. Agh! Di Matteo Fantozzi E' durata poche settimane la storia d'amore tra Paola Di Benedetto e Francesco Monte. Chi pensava che, dopo la delusione vissuta con Cecilia Rodriguez l'ex tronista avesse trovato la donna della sua vita, sarà costretto a ricredersi. Dopo la passione iniziale, l'amore non è mai sbocciato e i due hanno scelto di percorrere strade separate. Dopo le dichiarazioni di Paola che ha sempre mantenuto i piedi per terra evitando di parlare d'amore e di bruciare le tappe andando a convivere, è arrivata la replica di Francesco Monte che, sui social, ha detto la sua su quanto accaduto con l'ex madre natura di Ciao Darwin. Io e Paola non stiamo più insieme, ha esordito l'ex tronista che, però, non ha voluto svelare i motivi dell'addio, le motivazioni restano private. Quindi vi chiedo la cortesia di accettare e farvi bastare questo. L'ex tronista, poi, spiega che, anche se la storia è finita, con Paola c'è un rapporto civile e di reciproco rispetto. Come in ogni coppia e rapporto, ciò che porta due persone a prendere strade diverse è giusto che resti nell'intimità della propria vita privata, proprio come ho sempre fatto e gestito tutte le mie situazioni sentimentali. Ha concluso l'ex tronista, aggiornamento di Stella Di Benedetto. Il loro flirt all'isola dei famosi 2018 aveva fatto sognare gli italiani ma adesso Paola Di Benedetto esce allo scoperto e racconta in esclusiva per il numero di chi gli inedicola domani, mercoledì 9 maggio 2018, che forse l'amore con Francesco Monte non è stato ricambiato. Il dubbio è che l'ex tronista di Uomini e Donne, ancora sentimentalmente preso e ferito da Cecilia Rodriguez, oggi posso dire che non conosco Francesco Monte. Quando è finita la mia storia con lui? Dovrei dire quando è iniziata? Ho paura di aver vissuto un film, un viaggio solo mio. Io c'ero, ci sono stata, ho creduto alle sue parole soprattutto quando eravamo sull'isola. Poi tutto è cambiato. Oltre a raccontare le tappe della loro storia, compresa la fine per lei inattesa e traumatica, la Di Benedetto recrimina anche sul suo percorso all'isola, Monte non mi ha mai amata e credo anche che non sia stato del tutto sincero con me. Mi mancano troppi tasselli. Non lo voglio più vedere, né sentire. Mi spiace anche aver cambiato il mio percorso dentro l'isola. Avrei giocato, invece ho amato e per la fretta di tornare in Italia, da lui, mi sono anche autoeliminata. Questa è la verità, sia chiaro. E oggi l'interrogativo che si pongono in tanti è il seguente, come prenderà la fine della relazione Matteo Gentili? Sì, perché pare proprio che Barbara D'Urso voglia comunicargli la notizia nella diretta di oggi del grande fratello. Agh! di Dario D'Angelo. Nonostante Paola Di Benedetto neghi l'evidenza, qualcuno conferma la rottura con Francesco Monte. Roberto Alessi, diretto di Vero e Novella 2000, ospite della Domenica Live di Barbara D'Urso non solo ha confermato la fine della storia ma ha rivelato che a prendere questa decisione sia stata proprio l'ex madre natura. Secondo i giri di Valzer di Verissimo invece, l'ex naufraga avrebbe avuto dei problemi con Monte proprio per la sua ospitata nella casa del grande fratello e anche per colpa di Marco Ferri. La giovane infatti, è entrata nella residenza di Cinecittà per parlare con l'ex fidanzato Matteo Gentili. I due si sono confrontati faccia a faccia e la ragazza ha specificato il nuovo interesse per l'ex tronista di uomini e donne. Anche il calciatore dentro la cassa ha approfondito la conoscenza di Alessia Prete e tra i due c'è stato di recente anche il primo passionale bacio, e non solo, dopo questo contatto approfondito, la notizia di una possibile separazione tra Paola e Francesco si è fatta sempre più evidente. Barbara D'Urso aggiornerà Matteo Gentili sulle ultime dinamiche? A quanto pare sì. La conduttrice infatti, con molta probabilità riferirà al concorrente che la sua ex fidanzata Paola Di Benedetto sarebbe tornata nuovamente single. Questa notizia sconvolgerà l'animo di Matteo oppure il ragazzo proseguirà la sua frequentazione con Alessia Prete? L'ex madre Natura intanto, intervistata tra le pagine del settimanale di più, ha le idee molto chiare, Penso che Matteo, su questa storia del fidanzato tradito, ci abbia giocato eppure parecchio. E che la abbia sfruttata per apparire in tv. E gli è andata bene, visto che ora è al grande fratello. Matteo Gentili inizialmente aveva affermato di essersi sentito tradito dalla sua ex, ci sono rimasta male, molto male, ha spiegato nel corso dell'intervista dopo averlo visto nella casa, La persona che mi sono trovata davanti non è il Matteo che conoscevo, che amavo. Lui non è stato sorpreso di vedermi, si aspettava la mia visita, lo ho capito guardandolo negli occhi. Nel suo sguardo non c'era stupore, però c'era tanta rabbia, tanta cattiveria. Mi sono trovata davanti una persona piena di collera, che non aveva alcuna intenzione di chiarire le cose ma voleva solo continuare ad attaccarmi, ad aggredirmi. E sinceramente non me lo aspettavo. Paola di Benedetto ha raccontato al settimanale di più di esserci rimasta male dopo il confronto con Matteo Gentili. Dentro la casa del grande fratello ha visto un ragazzo pieno di rabbia e rancore. Nonostante questo, ha la coscienza più che pulita, so quello che Matteo aveva detto su di me. Però, sinceramente non credevo di trovarmi davanti un muro. Anche perché Matteo sa benissimo come sono andate davvero le cose tra noi. E sa benissimo che, prima di partire per l'isola dei famosi, ero stata molto chiara, gli avevo detto che la nostra storia era finita definitivamente e non c'era alcuna possibilità che tornassimo insieme. Barbara D'Urso quindi, nonostante le chiare parole dell'ex madre natura, questa sera riferirà ugualmente ciò che vocifera il gossip? Proprio la di Benedetto aveva cercato di smentire la rottura con Francesco Monte, la storia va benissimo. Da quando sono tornata in Italia non ci siamo mai lasciati. Ci separiamo soltanto quando uno dei due ha un impegno di lavoro e l'altro non può accompagnarlo, ha detto sempre intervistata da di più. Poi ha voluto anche precisare, capita di fare i salti mortali, fra treni e aerei, anche solo per vederci poche ore. Ma va bene così, vogliamo fare le cose con calma. Proprio perché è una storia cui entrambi teniamo molto, stiamo cercando di farla crescere piano piano, senza rischiare di bruciare le tappe, quale sarà la verità?